Che cos'è la cultura di una nazione? Correntemente si crede anche da parte di persone colte che essa sia la cultura degli scienziati, dei politici, dei professori, dei letterati, dei cineasti. Cioè che essa sia la cultura dell'intelligenza. Invece non è così. E non è neanche la cultura della classe dominante che appunto, attraverso la lotta di classe, cerca di imporla almeno formalmente. Non è infine neanche la cultura della classe dominata, cioè la cultura popolare degli operai e dei contadini. La cultura di una nazione è l'insieme di tutte queste culture di classe, è la media di esse. E sarebbe dunque astratta se non fosse riconoscibile, o per dir meglio visibile, nel vissuto e nell'esistenziale, e se non avesse di conseguenza una dimensione pratica. Per molti secoli in Italia, queste culture sono state distinguibili anche se storicamente unificate. Oggi, quasi di colpo in una specie di avvento, distinzione e unificazione storica hanno ceduto il posto a una omologazione che realizza quasi miracolosamente il sogno interclassista del vecchio potere. A cosa è dovuta tale omologazione? Evidentemente, a un nuovo potere. Conosco anche perché le vedo e le vivo alcune caratteristiche di questo nuovo potere, ancora senza volto. Per esempio, il rifiuto del vecchio sanfedismo e del vecchio clericalismo. La sua decisione di abbandonare la chiesa. La sua determinazione, quando era nata dal successo, di trasformare contadini e sottoproletari in piccoli borghesi. E soprattutto la sua smania, per così dire cosmica, di attuare fino in fondo lo sviluppo, produrre e consumare. L'identichite di questo volto, ancora bianco, del nuovo potere, attribuisce vagamente ad esso dei tratti moderati. Dovuti alla tolleranza e a una ideologia idonistica perfettamente autosufficiente. Ma anche dei tratti feroci e sostanzialmente repressivi. La tolleranza è infatti falsa. Perché in realtà nessun uomo ha mai dovuto essere tanto normale e conformista come il consumatore stesso. E quanto all'edonismo, esso nasconde evidentemente una decisione a preordinare tutto con l'aspitatezza che la storia non ha mai conosciuto. Dunque, questo nuovo potere è in realtà, se proprio vogliamo conservare la vecchia terminologia, una forma totale di fascismo. Ma questo potere ha anche omologato culturalmente l'Italia. Si tratta dunque di una omologazione repressiva, pur se ottenuta attraverso l'imposizione dell'edonismo e della gioia di vivere. Il nuovo fascismo non si distingue più. Non è umanisticamente retorico. È americanamente pragmatico. Il suo fine è la riorganizzazione e l'omologazione brutalmente totalitaria del mondo.